Cari amici, buongiorno. Vi mando questo breve video per incuriosirvi e attrarvi con le cose che sono comparse sul mio tavolo di lavoro. Sono un'anticipazione di un progetto che in modo sistemico sul territorio del frio di Venezia Giulia coinvolgerà a breve le aziende manifatturiere che credono di poter dare qualche cosa al territorio grazie alla loro esperienza e ai loro successi, poter imparare l'uno con l'altro, coadiuvati da una serie di interventi e con la professionalità di esperti oggi presenti nella piattaforma IP4FWG al nodo di Advanced Manufacturing di San Vito al Tagliamento. Non vi dico di più perché nella prima decada di marzo avrete dettagli, ingaggi e specifiche su come questo progetto potrà contribuire a rendere il nostro territorio un faro di riferimento per la manifattura digitale di eccellenza. Intanto buon San Valentino a tutti voi.